Lei si sente una persona straordinaria oppure no? No, io veramente... Spesso lei ha detto, mi sento un verme di terra. No, mi sento un verme di terra, io sono una poveraccia. Io so che cosa penso, forse sarà una malattia a cui si manifesta il Signore attraverso questa malattia di poter fare bene all'umanità, alla gente che soffre. Io non mi sento niente, proprio niente.